Anche quest'anno potremmo impegnarci per una buona causa. Vendiamo cose fatti a mano per migliorare un po' la vita delle persone povere. Siamo sempre in giro in coppia e ci divertiamo un sacco a vendere questi oggettini. All'inizio era un po' strano rivolgere la parola agli stranei, ma adesso non più. Anzi, è bello fare qualcosa di diverso dal solito. La nostra maestra ci dà volentieri una mano. Con il denaro raccolto aiutiamo le persone meno fortunate di noi. Suicide ci manda diverso materiale interessante per la lezione. Partecipare è facilissimo. I nostri maestri non devono occuparsi quasi di niente. Riceveranno da Suicide gli oggetti da vendere, il materiale di supporto e i moduli per il conteggio. Anche i miei genitori sono entusiasti dell'iniziativa di Suicide. Dicono che capiamo che non tutti hanno abbastanza da mangiare. Così facciamo qualcosa per aiutarli. E impariamo anche a usare i soldi. Possiamo anche tenere una parte delle donazioni raccolte per fare qualcosa tutti insieme. Aiutate anche voi, come classe scolastica, come gruppo giovanile, come associazione o come persona privata. Grazie mille! Grazie mille!